E benvenuti a questa nuova puntata di Meet Xbox Weekly. Vi chiediamo scusa innanzitutto perché saremmo dovuti andare online settimana scorsa, ma eravamo a San Francisco per la Game Developer Conference e quindi c'era un po' difficile mandarvi i nuovi video. È una fiera che parla soprattutto dello sviluppo dei videogiochi, ma nonostante questo ci sono sempre novità legate a nuovi titoli. Abbiamo assistito a una presentazione del nuovo Batman Arkham Knight, in uscita su Xbox One a fine anno. Con il presente dispongo che alla mia morte tutti i miei averi badano in eredità a mio figlio, Bruce Wayne. Batman Arkham Knight si presenta come il capitolo conclusivo della saga sviluppata da Rocksteady, dotato di alcune novità che includono l'utilizzo libero della Batmobile e una riproduzione fedele di Gotham City. Tornano tutti i nemici storici della serie, compreso lo spaventapasseri, il pinguino due facce e Harley Quinn, in quella che si presenta come un'esperienza sempre più vicina a un free roaming. Concepito appositamente per le piattaforme di nuova generazione, il titolo Rocksteady promette una realizzazione grafica davvero mozzafiato e quello che abbiamo visto dal vivo ci ha davvero convinto. Fortuna con leggerezza, non gettarla via in auto sportive. Ma la Game Developer Conference è stato anche il momento giusto per fare il punto della situazione sul programma degli giochi indie su Xbox One e su Xbox 360. Ce n'erano ben 25 che abbiamo potuto provare, quello che ci ha colpito di più è Fru. Sviluppato da un team di sette ragazzi, tra i quali l'italianissimo Mattia Traverso, che salutiamo, Fru proietta il giocatore in un ambiente 2D nel tentativo di raggiungere la porta d'uscita, col solo problema che le piattaforme sono disposte su due piani paralleli, il secondo dei quali si rivela solo coprendo l'area col proprio corpo rilevato da Kinect. Ci si sposta usando una sola leva e un grilletto analogico per saltare così da essere liberi di contorcersi, allungare le braccia e le gambe, per raggiungere le piattaforme più lontane impugnando il pad con una mano sola. Ma alla Game Developer Conference non si parla solo di giochi, si parla, come vi ho detto, anche di tecnologia. E Microsoft ha approfittato della grande fiera a San Francisco, appunto, per introdurre e annunciare ufficialmente le nuove DirectX 12, che coinvolgeranno alla grande anche Xbox One a partire dalla fine del 2015. Realizzate da zero con la collaborazione di sviluppatori sia software che hardware, sono concepite per creare un ambiente di sviluppo di tipo console anche su PC e saranno totalmente retrocompatibili con l'hardware AMD, Nvidia e Qualcomm Mobile. La notizia più attesa è quella relativa alla compatibilità con Xbox One, che è stata confermata. Microsoft ha addirittura presentato una versione di Forza 5, già convertito in tempi record dalle DirectX 12, a conferma della loro versatilità. Turn 10 ha affermato che hanno impiegato un mese per convertire il motore, impiegando uno staff di sole 4 persone. Da fine 2015 ne vedremo davvero delle belle. E siamo arrivati anche a questa settimana all'angolo degli sconti selvaggi, per farvi giocare spendendo il meno possibile. Microsoft fa davvero sul serio, ci sono grandi offerte sul marketplace. Cos'è questo? Che cosa succede? Tra le tante disponibili, questa settimana abbiamo scelto Bioshock Infinite, terzo capitolo della saga di Bioshock, curato dai Rational Games prima di chiudere. Dalle profondità di Repture degli episodi precedenti, passiamo ai cieli di Columbia, una suggestiva metropoli volante che ci vede impegnati nella ricerca di una ragazza di nome Elisabeth. Bioshock Infinite mantiene inalterate le sue dinamiche da sparatutto, con influenze da gioco di ruolo, ma la intensa componente narrativa e un finale d'effetto lo rendono degno di un vero film interattivo. Potete acquistarlo a 9,89 euro. Prendetela! Lasciatemi andare! Ed eccoci arrivati al momento social di MeetXbox Weekly, che appunto ha un account Twitter dedicato, chiocciola, MeetXbox Weekly. Che cosa dovete farne? Dovete mandarci le vostre richieste, le vostre domande, anche dei saluti, e noi risponderemo, oppure chiederci di trovare dei ragazzi con cui giocare online. Anche questa settimana partiamo con due di voi. Titanfall continua a riscuotere un grandissimo successo e continuano ad arrivarci richieste per formare dei gruppi per poter giocare online. Questa settimana per lo sparatutto di Respawn vogliamo aiutare Luca e Alessandro. Fatevi sotto che siete tanti e potete fare davvero delle belle cose. Ma non di solo Titanfall vivono i giocatori su Xbox, perché uno di quelli che ha riscosso maggior successo, soprattutto online, è Battlefield 4, sempre di EA. E a chiederci aiuto questa settimana sono Nunzio e anche Davide, che soprattutto ha una richiesta piuttosto particolare, perché è uscita la nuova espansione China Rising e lui cerca amici per poter sbloccare l'ultimo obiettivo. E chiudiamo il nostro siparietto social con Davide, che ci chiede notizie di Warface, un free-to-play disponibile per Xbox 360. Caro Davide, appunto, siamo lieti di confermarti che Warface è disponibile come beta gratuita per tutti i possessori di un abbonamento Live Gold, che è necessario, come sempre, per poter giocare in rete usando la tua console Xbox. E come ogni due settimane, anche se stavolta, e scusateci ancora, sono diventate tre, siamo arrivati al momento dei saluti. Se niente succede, se tutto va per il verso giusto, ci rivedremo fra tre settimane, sì, fra due settimane, con una nuova puntata di Meet Xbox Weekly, ma dovremo avere ancora delle notizie. E appunto, parlavo di un po' di incertezza, perché abbiamo un paio di presture a cui andare e dai quali imparare notizie e curiosità da potervi poi raccontare nelle puntate che sappiamo aspettate con regolarità. Continuate a scriverci al nostro account di Twitter, chiocciola Meet Xbox Weekly. Noi siamo sempre lì. Vi rituitiamo quando ci fate i saluti, anche quando ci fate le domande. Poi, quando registriamo la puntata, i più bravi finiscono dentro il video. Ciao e alla prossima!